Ieri molti paesi europei hanno chiuso i loro aeroporti ai voli provenienti dal Regno Unito. In serata è arrivato l'annuncio della Francia che ha chiuso le sue frontiere anche alle merci. Il provvedimento francese riguarda qualsiasi merce proveniente dal Regno Unito per le prossime 48 ore. Chiude così anche il porto dei Dover con il ministro dei trasporti Schaps che si è detto sorpreso della decisione francese. La Gran Bretagna resta così isolata, non si può più volare in Italia e in gran parte dell'Europa e tutti quelli che volevano tornare per le feste in famiglia dovranno rinunciarci se non sono riusciti a partire entro ieri mattina. Intanto 4.000 camion sono rimasti bloccati sull'autostrada per Dover e il governo raccomanda a tutti gli operatori commerciali di lasciare i loro automezzi in sede per non aumentare ulteriormente i disagi. Scarica l'applicazione di TeleLondra. È gratuita e rimani connesso con il mondo italiano in UK. Ricevi le informazioni per gli italiani in UK tutti i giorni. Se anche tu vuoi fare pubblicità su TeleLondra, scrivici a info.telelondra.uk o contattaci al numero 07 43 21 99 430.